Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Giorni difficili per Sofico Degoni e la sua piccola Selin, figlia avuta con Alessandro Basciano. Dopo la loro recente separazione, i due continuano a mantenere un rapporto civile per il bene della bambina. L'influenza autunnale ha colpito anche la piccola Selin, che giocando con i suoi amichetti, ha contratto un virus influenzale che ha scatenato un forte spavento. Sophie, tornata sui social dopo alcuni giorni di assenza, ha raccontato con voce rotta e occhi lucidi ciò che è successo. La mamma influencer si trovava a Parigi per lavoro quando ha ricevuto la notizia delle condizioni di salute della figlia. Senza esitazione, Sophie ha preso il primo volo per tornare a casa e raggiungere la piccola, che era stata ricoverata in ospedale. «Abbiamo passato giorni molto difficili», ha detto Sophie, visibilmente emozionata, Selin non stava bene, ha avuto delle convulsioni febbrili. Non sapevo nemmeno cosa fossero, e questo mi ha spaventata moltissimo. Fortunatamente, dopo due giorni in ospedale e vari accertamenti, Selin sta meglio. Le parole di Sophie, ci hanno spiegato che le convulsioni febbrili sono più comuni di quanto pensassi. Alcuni bambini sono predisposti, e purtroppo Selin rientra tra questi. Potrebbe non succedere mai più, oppure potrebbe succedere ogni volta che si ammala. Ora, però, sappiamo come affrontare la situazione. Essere lontana per lavoro mi ha fatto sentire in colpa, ma Selin era con mia mamma, e questo mi ha sollevata. Non so se sarei stata brava a gestire la situazione come lei. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Sophie ha condiviso con i suoi follower le sue preoccupazioni, dimostrando ancora una volta a quanto l'essere madre comporti non solo gioie, ma anche grandi responsabilità e paure. Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia, ha concluso Sophie, cercando di trattenere le lacrime. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio, e ora Sophie può respirare di nuovo, consapevole che, sebbene essere madre sia uno dei compiti più difficili, lo sta affrontando con grande forza e determinazione. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.